Allora eccoci qua, buonasera signore e signori e benvenuti alla prima delle tre serati organizzati dal gruppo artistico teatrale di Padro Scenici e in collaborazione con il Centro Studi Storici Stricano e del Padro Scenio del Comune di Striano sono finalmente lieti di presentarvi la commedia teatrale N'U Pintura e Un World Vivo, atto unico di Antonio Petito. Naremo un po' la storia di questo gruppo, come si è formato, si è sgruppato grazie alla caparchedaria e dalla volontà di alcuni di loro di creare un qualche diversivo che portasse nel nostro paese dopo anni di assenza la lissata sana della commedia tradizionale napoletana ed è grazie a questo che vengono coinvolte altre persone fino a raggiungere il numero per poter inscenare questa commedia che tra poco ci attendiamo a guardare. Come già detto le serate saranno tre, vado a dire questa sera, venerdì e sabato sempre alle 20.30. La compagnia teatrale ci viene a precisare che il cammino da l'orita preso è finalizzato allo scopo unico del divertimento, quindi non ha scopo di lucro ed invitano tutti coloro che volessero cimentarsi anche se per la prima volta nel mondo della recitazione a far permetire questa volontà alla compagnia stessa. Inoltre sappiamo che in sala ci sono componenti della compagnia teatrale o strumbolo di Poggio Marino e per cui li salutiamo con affetto e gli auguriamo una buona missione come del resto a tutti e tutti di buona in sala. Il nuovo progetto in mente è che se riesce lui sarà costretto ad acconsentire al nostro matrimonio. Ma lo può fare? Io non posso riprendere. Sì ma ora provate perché potrebbe fare una mamma, me lo posso altro. Sì, ti prego. Giagami? 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 Giagami è indice? Beh, ce ne è anche. Sisto i nomi. Noi di Trentino andiamo? Ciao. Non fare sciocchezze. Fale la meta, sai no? Specialmente i servitori già qui proteggo il tuo posto. Ma c'è una sola famiglia? Lascia far mettere la paura tale per usare la trasciolta. Ma guarda, tutto è pronto. La trasciolta è bucetta. La per te che si parla è più alta. Sì, dai, dai. Ma guarda. Ma guarda. Ma guarda. Vieni, 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 non abbiamo paura, ma non ho capito, ma che cosa è questa paura? Io non posso accorci, ma senti il bambino? L'amore, vieni, vieni decisamente, ma sai, e cosa cosa? Grazie. Grazie. Non morire, non è così. Non morire. Ci si lascia di comorire i cuori. Comino, ma tu sei... Ciccolina, tu sto? Metto stu cosa la. Mettiti il lavoro. Va, va, va. Hai capito? Ok, facci tu. E gli dovrai dire i suoi caratteri somatici. Ma tu non mi fai pressione. Non ci vuoi andare. E devo vittare. Va, va, va. Vai, 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 vai. Vedi se... Vedi se... Vedi sotto i cingli. I capillano? Eh, ma se hai capito sono che raccignano. Un po' di nuovo, eh. Un morto è bimbo. Un morto è morto. Non è bimbo. Morto. Un morto è morto. Fai le cose. Non mi disegna se è... E' aquilino. E' aquilino? Mamma mia, ma non sei aquilino? Beh sì, ma no錯. Hoocchi non ho potuto te vero? E' a che... Ma non piace, non ci puoi utilizzare, non ti puoi utilizzare, non ti puoi utilizzare, ma non ti puoi utilizzare, sei se, sei se. A me fa un messione, non ci voglio andare. Vai a vedere, vai a vedere. Aspetta, vai a cosa. Lascio a pagare, mi chiedevi, non mi chiedevi. No, sono vinto. Mi chiedevi, mi chiedevi, mi chiedevi, mi chiedevi. Mi chiedevi, mi chiedevi, mi chiedevi, mi chiedevi. Mi chiedevi, mi chiedevi, mi chiedevi. E' meglio che mi faccio ripienirevi. Ma qui si mi passa tutta la mamma. Oh, 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 oh that me. Da, là, là chiesci. My, oh, oh, oh. Mi chiedevi, mi chiedevi, mi chiedevi, mi chiedevi. No, un morto,poorano mi chiedevi. No, stop, che voglio? E io la sapevo, un muro che è pure un rievo! Un muro! Ok, ma se mi finì? No! Ecco me, uvi! No! E uvi! Che impressione! E non ho un peccato assolutamente alla volta che uvi! Ma che impressione questa! Comunque non faccio che tu lo dì! E non mi interessa! Non sighti ma non hai habits! Bais! Bais! Fai Schia e rosso! Ta sono i papi خل dedicate a casa con quelle ore? Allora, che è llevo il strozo? Che è stato del mondo? Tre vedi aこar depresi! Mi sa sabato prima! Mi senti! Ma lupito non viene diatories! Ma del volate menele! Un manaccio sca... Ma che dici? Allora, cambiamoci e dici! Eh, te lo giuro, eh, io non ci vedo il capo, non ci vedo il capo, comunque te ne vedo il capo, te ne vedo il capo, facciamo una cosa, facciamo fin da chi dormise, così appoggio il capo, come stai? Riuscivi a uscilaughter di un monoe vero, non ho pronto, non farò altro, non farò, perché stanno in un'ordine. Sì, 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 sì. vorrei bene, vieni, vieni... vai, vai, alzati, alzati, alzati... vieni, 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 vieni. io mi in tego flìs! ti muto me c'è da giocao! e poi vi rimane un po' di più e poi vi rimane un po' di più